Oltre 10 tonnellate di materiale ferroso e rifiuti pericolosi, tra cui cavi di rame per un valore complessivo di oltre 10.000 euro, sono stati ritrovati in provincia di Pesero Urbino dai nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale. L'operazione, portata a termine, rientra nell'ambito di una campagna regionale che ha coinvolto oltre 30 forestali in tutte le marche e ha previsto il controllo di 9 commercianti di rottami e 4 trasportatori. Il sequestro è stato condotto dal comando provinciale di Pesero del Corpo Forestale dello Stato, assieme al personale delle stazioni di Cartoceto, Carpegna e Piobbico. Colto in flagranza di reato un cittadino marocchino mentre scaricava abusivamente rottami provenienti da autoveicoli in una ditta di raccolta e gestione di rifiuti ferrosi a Monteporzio. Sequestrato il furgone utilizzato per le attività illecite è denunciato anche il titolare della ditta, nella quale sono stati rinvenuti 1.500 kg di cavi di rame, parti di motori ed elettrodomestici, ma anche acciaio e 500 kg di ottone, tutti di provenienza sconosciuta. I reati contestati ai due soggetti che hanno agito in concorso vanno dalla ricettazione alla gestione di trasporto di rifiuti con pene che prevedono fino a 8 anni di reclusione. L'indagine, diretta da Manfredi Palumbo, procuratore capo del Tribunale di Pesero, ha consentito di accertare gravi anomalie nella gestione dei registri aziendali. In particolare non veniva indicata la provenienza di materiali stoccati, compreso il rame, prezioso oro rosso, impropriamente identificato come rifiuto, ma in realtà pronto per essere messo sul mercato a prezzi molto elevati.